Giugno però, con un occhio vigile, sugli over 60. Noi abbiamo ottimi risultati sugli over 80, buoni risultati sugli over 70, risultati ancora che sono solo soddisfacenti sugli over 60. Quindi dobbiamo continuare su queste categorie, così come sui fragili, per ultimarle nei limiti delle possibilità, chiaramente ci sarà una platea di rinunciatari di cui tener conto, e questo lo sanno bene i presidenti, l'ho discusso di Savì con la presidente Tesei, che è completamente d'accordo con questa linea.